Un saluto a tutti gli amici di iBetSocial. Sarà Paola Egonu, giocatrice di pallavolo italiana, a portare la bandiera tricolore alle Olimpiadi di Tokyo. Si parla di una delle più forti giocatrici al mondo. Mi sembra di tornare indietro di 21 anni, al 2000, quando a Sydney a portare la bandiera fu Carlton Myers, italiano, uno dei più forti giocatori di basket d'Europa. Si discusse molto sul fatto che fosse stato preso semplicemente perché è di colore. Beh, il problema è che a distanza di 21 anni ancora si discute sul fatto che la Egonu sia stata scelta semplicemente perché è di colore. Io credo che ci sia una grande cosa da fare per evitare ogni tipo di luogo comune, fregarsene. Parliamo di campioni, Carlton Myers e Paola Egonu. Un orgoglio per il nostro paese e questo mi basta.